Claudio Martini per Arezzo Web Informa, siamo con Francesco Ruscelli, neosegretario provinciale del PD. Diceva poco fa fuori dai microfoni tante cose da fare e quali sono anche gli obiettivi? Gli obiettivi sono innanzitutto quello di cercare di tornare a far essere protagonista il Partito Democratico in provincia di Arezzo. Negli anni scorsi siamo stati oggetto di sconfitte elettorali importanti da Arezzo fino all'ultima di Cortona che hanno rischiato una marginalizzazione politica, culturale e anche elettorale del nostro partito. Quindi l'impegno di questo congresso è stato quello di mettere in campo un progetto per ritrovare una proposta, una connessione, una relazione con il nostro territorio per cercare di essere di nuovo protagonisti. Due importanti appuntamenti elettorali in vista, le regionali e le amministrative su Arezzo. E' chiaro che il 2020 sarà caratterizzato da due elezioni particolarmente significative per quanto ci riguarda. La prima sono le elezioni comunali per il rinnovo del Consiglio Comunale, le elezioni del Sindaco che è nella città capoluogo, peraltro unica città capoluogo che andrà a votare in Toscana nel 2020. E le altre sono le elezioni regionali dove dobbiamo riconfermare la guida della regione toscana e possibilmente anche un peso specifico importante nella giunta regionale. A questi appuntamenti ci avvicineremo con una direzione provinciale che sarà convocata subito dopo i Santi, quindi i primi di novembre, perché l'elezione degli organismi dirigenti vi sarà il 29 con l'Assemblea provinciale che si terrà nel secondo step martedì della prossima settimana alle 20.30 all'Hotel Etrusco e la settimana successiva faremo questa direzione provinciale per individuare il perimetro operativo che il segretario e la segreteria dovranno seguire per avvicinarsi a questi due appuntamenti. Due temi di stringente attualità che riguardano un po' il panorama nazionale. Si è conclusa la Leopolda per quanto riguarda Renzi e per quanto riguarda invece Grillo, alleato con il PD a livello nazionale, al governo, ha detto togliamo il voto agli anziani. Renzi stamattina a Canale 5 ha detto toglietegli il fiasco. Come reagisce lei? Dunque, è chiaro che la scissione che ha previsto la Costituzione dei gruppi di Italia Viva e quindi l'uscita di Renzi è stato un fatto significativo per la nostra comunità politica. Io chiaramente non voglio commentare le vicende di un altro partito a questo punto. Mi limito a sottolineare che in 12 anni di storia del Partito Democratico vi sono stati due leader e segretari importanti che hanno deciso a un certo punto invece che di dare il loro contributo anche da una posizione di minoranza perché siamo un partito plurale interno al PD di uscire e fondare un altro partito. Non mi sembra questa una cosa normale. Detto questo auguro buon viaggio e buon cammino a tutti gli amici che aderiranno pochi per la verità per il momento del Partito Democratico tra i nostri iscritti a Italia Viva. Con loro torneremo a incrociare i destini perché stiamo nello stesso campo politico e credo che come a livello nazionale e anche a livello locale poi ci dovremo incontrare. Per quanto riguarda Grillo, ma Grillo è noto per le sue provocazioni, non vorrei creare un caso per queste questioni. Mi sembra una questione che non esiste, poi qualcuno dovrebbe andare a spiegare a una persona come fa a essere definita anziana, perché da che età si definisce una persona anziana? 80 anni, 70. Se io dicessi a mio padre che ha 74 anni, sei una persona anziana, lui penso si arrabbierebbe. Quindi prendiamo per quello che è una provosta provocatoria che credo serva solo a dare un po' di colore a alcune giornate grigie della politica italiana. Sicuramente lei mi dirà che è prematuro, ma già c'è un toto nome sul candidato sindaco per le prossime amministrative per il PD. No, c'è qualche giornale, qualche media che riporta alcuni nomi. Al momento è del tutto prematuro. Possiamo solo dire che io credo che per riconquistare Arezzo serva un perimetro della coalizione molto ampio che ci faccia condividere un progetto in maniera coesa tra forze politiche di centro-sinistra, forze civiche e poi il candidato, vedremo se sarà un candidato con un profilo politico più accentuato o con un profilo civico più accentuato. Ma questo lo scopriremo vivendo nelle prossime settimane, entro fine anno. Per concludere, alla segreteria provinciale il suo vice è Matteo Bracciali, un renziano di ferro della prima ora? Sì, ora non credo anche lui sia più renziano, nel senso che Renzi ha fondato un altro partito mentre Matteo ha chiaramente affermato che rimarrà, come io sono felice, a dare il suo contributo nel partito. Questo è il congresso unitario, un congresso fatto con chiarezza, alla luce del sole, dove c'è stata una convergenza unitaria non solo sulla mia persona ma anche sulla piattaforma programmatica che abbiamo condiviso e da quella si riparte per tornare appunto, come dicevamo all'inizio, ad essere protagonisti e il PD tornerà ad essere protagonista nei prossimi anni in questo territorio. Grazie. Grazie.